Salve e ben ritrovati. Siamo nella seconda parte di questa giornata, della prima giornata del nostro progetto, nell'ambito dei laboratori dal basso. Ci ritroviamo, manca qualcuno, qualcuno si è aggiunto. E diamo il benvenuto al signor De Santis, parente alla larga di Caparezza. Neanche tanto alla larga. Bene, che ci introdurrà nel mondo del festival, Troia Teatro Festival, in tutte le dinamiche del festival e potrà illuminarci e magari includerci in questo percorso. Do la parola a Francesco. Grazie. Possiamo spegnerla l'amplificazione? Ah, ok, grazie. Vabbè, io sono Francesco del festival Troia Teatro. Io vorrei fare una piccola introduzione rispetto al mio essere qui, nel senso che io quando sono arrivato stamattina in realtà non sapevo neanche di che cosa, cioè non sapevo cosa aspettarmi da tutto questo. Nel senso che conoscevo i laboratori dal basso, però in maniera molto 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 superficiale, nel senso che sapevo della progettualità, però concretamente non sapevo come si realizzassero, come si stavano realizzando nelle varie sedi. Quindi, inizialmente, quando mi hanno chiamato, io volentieri ho detto vabbè, vengo a dare una mia esperienza rispetto al festival, a che cosa, cioè in che modo lo abbiamo realizzato, in che modo lo realizziamo ogni anno. Successivamente, invece, mi sono stati richiesti una serie di altre cose in cui mi chiedevano quasi una vera e propria lezione da fare, insomma. Io su questo, dico la verità, non sono preparato, nel senso non sono un insegnante, non l'ho mai fatto e quindi in realtà ero anche un po' agitato della cosa. Stamattina sono venuto, ho assistito al laboratorio che hanno fatto i ragazzi dell'Amorosi Festival, che conoscevo in maniera anche quella molto superficiale, nel senso che conoscevo la programmazione, però non conoscevo personalmente loro. E mi sono reso conto che i festival, che apparentemente possono essere molto molto simili tra di loro, hanno in realtà una diversità notevole, nel senso che mi rendevo conto che i loro, come dicevamo anche prima, i loro punti di forza, in realtà sono i nostri punti di debolezza. E i nostri punti di forza sono i loro punti di debolezza. Ovviamente ho iniziato a pensare effettivamente che cosa sarebbe stato anche utile fare oggi pomeriggio. Vabbè, inizialmente io vi parlerò del festival, questo diciamo sarà il primo momento. E poi in realtà io sulla falsarica di quello che hanno fatto loro stamattina vorrei creare effettivamente un festival, che è il festival dell'anno prossimo. Io ho già in mente che cosa faremo, vi spiego anche il perché vorrei fare una cosa del genere. E io vorrei affrontare veramente tutti tutti i punti che fanno sì che si arrivi a questo festival. Cioè è una sorta di fantafestival, mettiamola così, che non affronti solo il punto di vista della comunità, ma affronti anche il punto di vista artistico. Cioè chi effettivamente voi chiamareste rispetto ad un tema che sarà il tema dell'anno prossimo. Noi quest'anno, il tema di quest'anno è il tema del movimento. E realmente noi abbiamo fatto una programmazione che dopo vi racconterò ci ha soddisfatto, però non totalmente. Perché ovviamente quando si organizzano queste cose purtroppo non si ha una progettazione così a monte che ti permette di realizzare effettivamente una cosa che ti piace. Molto spesso la realizzi e diventa un fantafestival, ti piace tantissimo, però per una serie di inerzie, sia burocratiche, sia di finanziamenti, sia anche di stanchezza, ti ritrovi all'ultimo a realizzare qualcosa di un po' diverso. Quindi sempre andare sull'emergenza e mai su una progettualità. Io invece oggi effettivamente iniziere a pensare insieme, iniziamo a pensare a come effettivamente, in base ovviamente non ad un'idea generale di festival, ma in base al Festival Altroia Teatro, quindi ai punti che io vi illustrerò sono fondamentali per il Festival Altroia Teatro, organizzare questa programmazione. Allora, questa era la mia introduzione. Finita l'introduzione, adesso andiamo alla descrizione del Festival. Allora, il Festival noi l'abbiamo iniziato a pensare nel 2004. Realmente nasce da un'esigenza, che è l'esigenza della struttura teatrale, nel senso che noi, cioè io in prima persona, avevo un po' un rigetto rispetto al teatro. Cioè mi trovavo a fare teatro, da un lato, in maniera molto parziale della mia vita, nel senso che non era la mia occupazione principale, perché facevo teatro, ma facevo anche l'educatore, questo a Napoli, e avevo il bisogno di capire effettivamente perché si facesse teatro. Per me era fondamentale il teatro legato al discorso culturale, al fare cultura. Però mi rendevo conto che la struttura, cioè quando io andavo a teatro, il teatro era pieno di persone che erano addette ai lavori, è un po' il discorso che si faceva anche stamattina. E quindi lo vedevo un po' chiuso, è una cosa che in realtà non mi soddisfaceva. Quindi iniziavo a pensare ad una modalità altra rispetto al teatro. E venne l'idea di appunto portare una forma teatrale di teatro di ricerca in un luogo che effettivamente non conoscesse proprio il teatro di ricerca. E ovviamente era un luogo che io però conoscevo benissimo, che era il mio paese di origine, dove io sono nato, dove sono vissuto, che è Troia. Il primo passo è stato, da parte mia, coinvolgere un'associazione locale che si occupava di eventi, di eventi, di scambi culturali, che effettivamente faceva cultura, cioè non è che facesse niente. Che è questa Unione Giovanile Troiana, con cui noi abbiamo iniziato una collaborazione appunto dal 2004. Tutto è nato da uno slogan, che poi è lo slogan che noi comunque continuiamo a portare avanti nel tempo, che è questo tutto un'altra Troia. Da un lato era uno slogan anche ironico, cioè sulla parola Troia, perché alla fine questo è il nome del paese, quindi ci si gioca anche in maniera scherzosa. Dall'altro è il concetto principale del festival, cioè il dire io vedo un luogo con tutta la sua identità e non lo voglio distruggere per crearne uno nuovo, però lo voglio trasformare a un certo punto. Cioè è come l'impacchettamento che facevano gli artisti del Parlamento di Berlino, cioè queste cose assurde che però la gente rimane colpita. E poi da quell'atto ovviamente se ne parla. Secondo me la cultura è molto questo. E quindi abbiamo iniziato a riflettere su questo, su questa modalità. Dice ok, prendiamo questo luogo e lo facciamo diventare qualcosa d'altro. La prima cosa ovviamente è individuare dei luoghi effettivi dove si potesse fare teatro, delle piazze, delle chiese, dei teatri, dei teatri parrocchiali, qualsiasi luogo che poteva servire a questo scopo. Ovviamente l'altro passaggio fondamentale è stato la ricerca dei finanziamenti e la ricerca dei finanziamenti sia privati sia pubblici e il collegamento con le istituzioni. Io vi sto parlando proprio, cioè, veramente da quando è nato, poi se vi annoio andiamo, vado subito avanti. Ovviamente la ricerca dei fondi è stata la cosa, tra virgolette, più semplice. Nel senso che il primo anno abbiamo partecipato ad un bando, ad un bando ministeriale, ad un bando regionale. Abbiamo vinto un bando ministeriale che era anche un bando di scambio interculturale che ha portato circa 20-25 mila euro, quindi una somma elevata. Con questo bando abbiamo parlato, siamo andati a parlare con il sindaco. Il sindaco in realtà non era convintissimo di una cosa del genere, diceva sì, ok, questa è la festa dei ragazzini poi alla fine. Quindi ha detto va bene, vi do gli spazi, fatelo. Il primo anno, l'altra cosa che abbiamo cercato di fare, che per noi era fondamentale, è il coinvolgimento con le altre associazioni della zona che si occupavano già di teatro e il coinvolgimento della cittadinanza. Perché erano gli altri due passaggi ovviamente obbligati per il nostro modo di vedere le cose. Le associazioni in realtà non è stato complicato chiamarle, nel senso che abbiamo chiamato una serie di artisti della zona che hanno fatto con noi dei progetti laboratoriali. Invece la cosa più complicata era il coinvolgimento poi del pubblico, cioè come far venire il pubblico ad assistere. La prima cosa che abbiamo cercato di evitare era il biglietto. E su questo ovviamente è già il primo punto critico, diciamo, tra un festival che è quello nostro e il festival che era quello di questa mattina. Rispetto a questo non è stato, io lo dicevo già stamattina, non è stata una scelta per noi comoda, ma è stata una scelta effettivamente artistica. Perché? Perché il nostro punto di partenza non era creare un teatro e cercare di fare andare delle persone a teatro. Era la cosa opposta. era portare il teatro in luoghi che non erano teatrali, che erano piazze di mercato, che erano luoghi di cittadinanza, già attivi, per altre cose, non per il teatro, però era già attivo. Allora questa cosa qui già porta ad un, tra virgolette, chiedere permesso. Se io chiedo permesso a una persona, effettivamente non posso chiedere anche di pagare per un luogo che è il suo, che non è il mio, né mi voglio impossessare di quel luogo e far pagare l'ingresso a quel luogo. Ovviamente questa è una scelta. È una scelta che è data pure dal discorso di dire ok, ma gli artisti? Gli artisti noi comunque li dobbiamo pagare. Allora già il discorso di prendere dei soldi che sono pubblici e girarli totalmente agli artisti, già per noi questo era un passaggio obbligatorio. L'altro discorso era, visto che è un festival che si fa in strada, perché non mutiamo il discorso del cappello? Cioè il cappello è un riconoscimento che in strada si dà all'artista. Cioè l'artista va in strada, fa il suo spettacolo e passa col cappello. È una cosa che fanno gli artisti di strada, ma è una cosa che l'arte italiana ha sempre fatto. Cioè la Commedia dell'Arte viveva di questo, viveva di strada e viveva di regali e di contributi liberi. Quindi abbiamo deciso di fare un'azione del genere. E il primo anno ovviamente è andato molto bene. È andato molto bene nel senso che abbiamo avuto un grossissimo riscontro sia a livello di pubblico, sia a livello di critica, e parlo di critica locale, cioè non sto parlando di critica mediatica o giornalistica rispetto al festival. Che, certo, certo. Come l'abbiamo? Il primo anno noi abbiamo pubblicizzato principalmente a livello locale. L'abbiamo promosso in due modi. Uno creando questi tre laboratori che erano gratuiti e che predisponevano, erano predisposti in modo tale che tutti quanti potessero partecipare, non chi era interessato al teatro, ma anche chi voleva osservare, voleva giocare. Questo ovviamente che cosa ti porta? Ti porta che se tu fai tre laboratori, io parlo sempre di un luogo di 8.000 abitanti, non sto parlando del grandissimo centro, se tu crei tre laboratori, cioè hai un'affluenza di circa 50-60 persone. Queste 50-60 persone parteciperanno sicuramente al festival e saranno loro stesse portatrice di altre persone. L'altra cosa che noi abbiamo cercato di fare è non chiudere i laboratori. I laboratori noi li facciamo, li continuiamo a fare ancora adesso nelle piazze. Questo che cosa fa? Fa sì che nel momento in cui noi facciamo il laboratorio davanti alla Proloco, la Proloco che il primo anno non ha voluto partecipare, di fatto ha partecipato in maniera diversa. Perché? Perché ha partecipato a un certo punto portando l'acqua alle persone che facevano il laboratorio, dando la presa elettrica, dando una mano alla costruzione dei vestiti, questo ovviamente crea una città che inizia a chiedersi che cosa sta succedendo. Il discorso del flash mob di cui si parlava oggi alla fine è la stessa cosa. È come se facessimo un continuo spettacolo che parte dalla mattina e arriva fino a sera, fino al momento degli spettacoli veri e propri. Perché di fatto chi passa e vede questi pazzi che fanno solo riscaldamento, rimane sconcertato. È ovvio che questo è pensabile in un luogo piccolo, cioè non è pensabile in una grande città. O se è una grande città la bisogna pensare, dal mio punto di vista, in una forma di quartiere, non di grosso centro in cui ovviamente puoi fare un laboratorio a due chilometri rispetto all'altro, l'altra attività. Deve essere tutto concentrato perché è tutta la città che a un certo punto vede un cambiamento. La prima volta che è stato fatto questo, io lo ricordo benissimo, ma Troia erano tutti sconvolti, in maniera negativa. Perché non c'era quello sconvolgimento di dire, uh che bello, che cosa è. Era un po' il discorso che si faceva prima col Carnevale. Il Carnevale era visto come il momento dove i pazzi potevano esprimere determinate cose. Questo era un po' il modo in cui i troiani vedevano questo afflusso di gente, sia da fuori, ma sia proprio di troiani che iniziavano a fare una cosa del genere. E infatti inizialmente i primi che si avvicinavano alla piazza erano abbastanza resti anche a fare determinate cose. Poi noi lo sappiamo, il teatro comunque tocca delle corde. Ovviamente questa cosa fatta durante gli anni, noi abbiamo iniziato nel 2005, quindi questa che faremo è la non edizione, perché in una edizione siamo stati fermi. Quindi ovviamente si tratta di dieci anni di lavoro rispetto a una cosa del genere. Adesso è una cosa normale, cioè adesso nel momento in cui nella piazza, in quel periodo di agosto, non c'è questa cosa, c'è uno sconvolgimento al contrario, ovviamente, cioè perché c'è l'attesa, c'è l'attesa di questa pazzia, come c'era l'attesa del carnevale. Cioè alla fine è la stessa cosa. L'altra cosa che ovviamente noi abbiamo cercato di... come abbiamo fatto a coinvolgere le persone, è stato non solo parlare del teatro di ricerca, ma parlare del teatro in varie forme e ancora di più parlare dell'arte in varie forme. Allora non disdeniamo una sezione dedicata all'arte di strada. Quindi oltre a spettacoli che possono essere anche più di concetto, c'è l'artista di strada, il Baskers, che per noi è stato sempre utilizzato, lo dico in questo modo, ma non per svilire la cosa, un po' come l'amo. Perché di fatto, quando noi parlavamo anche oggi del discorso culinario, cioè se porti cibo, porti sagre, porti vino, il paese lo riesce a riempire, ma con numeri impressionanti e non c'è neanche tanto bisogno della comunicazione, cioè arrivano veramente flotte di gente. però il rischio è che questo risucchia poi l'aspetto culturale, cioè l'aspetto del... effettivamente di quello che si vuole dire del teatro in sé, perché la gente poi viene a fare casino, viene a bere, viene a mangiare, non è interessato neanche a seguire un minimo qualcosa. invece il discorso del teatro di strada era comunque una forma artistica, comunque è qualcosa, però non ha una logica, ovviamente il giocoliere non ha una logica drammaturgica rispetto ad uno spettacolo, quindi è anche più fruibile rispetto ai bambini, rispetto agli adulti che non sono interessati al teatro. e poi la cosa fondamentale era creare un momento centrale che è il momento pubblico, diciamo, più grande, cioè decidere una piazza, la piazza più grande e lì mettere lo spettacolo, ovviamente lo spettacolo di punta, che di solito era lo spettacolo ovviamente che dava la vera e reale struttura al festival. Io lo dicevo oggi anche quando ho fatto quella breve intervista. Noi ci siamo resi conto un anno della forza del festival, cioè che stavamo facendo qualcosa di positivo per la comunità e per noi quando abbiamo invitato Pippo Del Bono. Oltre a essere un nome per noi importantissimo e vi assicuro è stato complicatissimo far arrivare Pippo Del Bono a Troia solo perché io ho dovuto chiamarlo quasi ogni settimana e quasi ogni settimana lui mi diceva ah sì, chiamami la settimana prossima. Questo per vi assicuro un anno. E io ricordo che alla fine quando riuscimmo a portarlo io lo andrei a prendere a Napoli e vi giuro che noi abbiamo fatto la strada Napoli-Troia in silenzio perché lui non aveva voglia di venire. Io me l'ho rotto anche un po' di questo atteggiamento perché dicevo sì, ok non vuoi venire però non è che dopo un anno di tempo un anno di cioè tutta una serie di problemi mi dai la liquidazione solo perché io sono festival e teatro e non sono Sant'Arcangelo dei Teatri o Volterra o chi che sia. E ovviamente l'atmosfera non era delle migliori. quando lui entrò nella piazza si ritrovò con 350 persone circa forse qualcosa in più quindi una piazza pienissima e la prima cosa che lui disse era effettivamente ma chi di voi mi conosce? Io vi assicuro nessuno lo conosceva e nessuno ha alzato la mano. Era il 2007 Pippo del Bonone non era ancora mediaticamente così importante però era conosciuto cioè era il periodo di racconti di giugno cioè non era uno sconosciuto rispetto a questa cosa lui ha vissuto in maniera positiva lo spettacolo perché effettivamente si è trovato davanti a un pubblico davanti a un pubblico che non era per forza un pubblico teatrale che già conosceva Pippo del Bono che già era pronto a sentire che già era arrivato per lui a un pubblico che poteva stare lì come poteva stare anche da un'altra parte cioè stava lì perché perché quella era la piazza centrale perché lì c'erano le sedute perché dicevano vabbè adesso vediamo chi c'è quando è finito lo spettacolo Pippo del Bono ebbe un successo incredibile un successo enorme e lui ovviamente cambiò anche l'atteggiamento tra me e lui perché ovviamente poi si creò tutto era tutto rose e fiori in quel momento in quel momento noi ci accorgemmo di qual era il nostro obiettivo effettivamente cioè dare all'artista l'opportunità di espressione davanti a un pubblico che non è preparato e che di fatto può anche alzarsi e andare via può anche gettare i pomodori lo può fare ma lo deve lo può fare cioè io non devo stare come artista non mi devo sentire sempre protetto dal con questo non voglio dire che l'artista non deve però l'artista lo deve proteggere chi organizza il festival cioè sono io che devo proteggere l'artista e che devo dire all'artista dove sta andando che cosa sta andando a fare cioè lui non sta andando a fare uno spettacolo come cento altri perché sta andando in un luogo che non è cento altri luoghi e quel luogo specifico lo sarà solo lì poi domani mattina vado ad un'altra parte in un altro luogo purtroppo secondo noi e qui ritorno al discorso iniziale la scatola nera del teatro ha un po' rotto questo meccanismo perché io mi trovo protetto e quindi ovviamente non riesco a esprimere liberamente la mia arte io come artista e soprattutto lo spettatore non si sente più a casa quando va al teatro il teatro è diventato una cosa per uno spettatore dico per qualsiasi spettatore è diventato una cosa spesso pesante poi quando ci vanno al teatro dicono ah però in realtà non è così male però varcare quella soglia è complicatissimo allora io rispetto al discorso artistico del Festival Arturo di teatro gli dico ok non varcare nessuna soglia vieni se vuoi te ne vai ovviamente si cerca il rispetto però vi dico sinceramente i primi anni le persone venivano e se ne andavano anche dopo due minuti cioè si alzavano se ne andavano ritornavano si mettevano a chiamare la persona che stava in prima fila a gridare perché è così adesso non succede più adesso le persone entrano in un luogo e capiscono e quel luogo è un luogo di lavoro è un luogo anche delicato e quindi sono stesse le persone che tra di loro gestiscono questo luogo che è il discorso della Gorà cioè la Gorà non è mia non è tua non la gestisce nessuno è ovvio che quando si crea all'interno della Gorà una piazza diventa mercato tutti sanno che quella piazza si dialoga in quel modo però è una gestione loro allora questo è uno dei risultati diciamo ottenuti dal festival ed è uno dei risultati che noi vogliamo continuare a mantenere l'altro aspetto fondamentale appunto dicevo il discorso laboratoriale che a noi serve per due ragioni uno appunto far sì che le persone che che vengano al festival oppure le persone di Troia partecipano liberamente e siano loro stessi all'interno di questo circuito che questo grande festival questo questo grande spettacolo unico l'altra cosa fondamentale del festival e dei laboratori è che molto spesso noi i laboratori li utilizziamo anche come luoghi di residenza cioè gli artisti vengono fanno un laboratorio probabilmente fanno una residenza legata a questo laboratorio e quindi iniziamo a a mettere in contatto dei degli attori dei registi che probabilmente avrebbero difficoltà ad incontrarsi ok voi in quella settimana potete incontrarvi e potete iniziare a pensare a qualcosa del del genere e voi interrompetemi quando quando volete fare domande quando criticità o altro sì allora in realtà non c'è stato cioè non c'è un qualcosa che su cui io ti posso rispondere perché in realtà non lo so neanche io quando ho iniziato a fare teatro come dicevo prima io sono molto critico non critico rispetto al mondo sono molto critico con me stesso nel senso che se se c'è un uno spettacolo che probabilmente è andato anche benissimo in cui io sono protagonista io in realtà mi chiedo ok però perché quella fila se ne sono andati è andato benissimo per il resto però io mi soffermo su questo è una mia indole rispetto a questa cosa e realmente io mi rendevo conto che quando andavo a teatro a fare spettacoli non ero soddisfatto cioè non mi piaceva ma non che mi piaceva lo spettacolo non mi piaceva proprio il pubblico che c'era perché il pubblico che c'era erano gli stessi attori di altre compagnie come io andavo a vedere gli altri spettacoli loro vedevano i miei cioè non c'era cioè non c'era mia madre o una persona dico mia madre perché è una persona che non si interessa di teatro che è uno stanzino astitico in cui gli uni vanno a guardare gli altri sì sì ma questo è voluto secondo me non guardate il discorso laboratori dal basso è perché dall'alto è voluto un'altra cosa cioè dall'alto vogliono un'altra cosa perché il teatro italiano alla fine si basa su forme di finanziamento che hanno bisogno di di fatto io lo stringo perché penso che tutti quanti lo sappiamo un po' io non prendo soldi dal teatro per vivere di teatro dagli spettatori gli spettatori sono una piccolissima parte cioè non è il guadagno ma come non è il guadagno per me non è il guadagno neanche per il festival di stamattina io quando dicevo ieri loro hanno fatto uno spettacolo eccezionale di di Rezza però hanno avuto 68 paganti allora il discorso è ok 68 paganti significa che voi che cosa avete fatto avete la sostenibilità no allora il teatro si basa su effettivamente sul pubblico totalmente no no ma infatti ma io non critico aspetta no no non pensavo che stessi criticando volevo dire appunto quello che stanno dicendo Raffaele che loro hanno faticato anche per pensare che il biglietto non è forse tuttora stanno faticando ma loro non hanno faticato perché invece loro non lo vogliono fare al biglietto cioè quindi a pagare rispetto perché altrimenti succede purtroppo che la gente si sente libera di 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 no però sono due cose diverse attenzione perché l'educare al rispetto è una cosa l'educare al al pagare è un'altra perché io non è che nel momento in cui non faccio pagare in tutti questi anni non ho cercato di di educare le persone al silenzio e al rispetto del lavoro altrui non è questo io non è che comunque non faccio pagare il biglietto però ovviamente c'è un'educazione rispetto a questo legare sempre tutto al denaro è un po' rischioso è veramente molto cioè secondo me è molto rischioso con questo non voglio dire che loro non fanno bene a fare una cosa del genere perché io ti dico anche di più noi abbiamo un grossissimo problema ed è il problema di cui io parlavo stamattina proprio con loro il nostro grande problema è che nel momento in cui noi non facciamo pagare un biglietto per per qualsiasi spettacolo noi siamo ritenuti comunque un festival d'arte di strada noi siamo etichettati perché perché tra virgolette dall'alto e da chi ti dà effettivamente i fondi tu devi avere una connotazione allora non fai pagare il biglietto se è un festival d'arte di strada non si vanno a non si vanno a chiedere effettivamente la tua programmazione che cosa fa cioè io non credo che Pippo Del Buono sia un artista di strada onestamente però il discorso qual è? che io però sono un festival d'arte di strada e vengo finanziato come festival d'arte di strada ovviamente i finanziamenti che vanno a festival che invece ti dicono ok io ti faccio i borderaux per 50 paganti per 200 paganti ovviamente ho un finanziamento da parte dello Stato che è per un festival di 200 paganti io porto 350 persone a spettacolo sto parlando però nel momento precisamente allora il discorso qual è? io per dimostrare determinate cose devo per forza fare un biglietto che significa anche il biglietto ad un euro per questo si faceva il biglietto ad un euro dice è brutto però si fa per questa ragione allora il discorso qual è? ok uno fa una scelta fa una scelta pure rispetto ai finanziamenti cioè io ho scelto di non avere i finanziamenti del FUS l'ho scelto cioè non è una questione di dire ok non li ho no l'ho scelto l'ho scelto per una ragione su tutte perché non faccio determinate cose che mi permettono di avere quei finanziamenti così altri festival fanno altri tipi di scelta io preferisco avere meno spettatori però fare altri tipi di scelte ora il discorso secondo me fondamentale è che dovrebbero essere questi due queste due scelte non dovrebbero essere in contrasto dovrebbero essere cioè io dovrebbero essere legittime entrambi io non dovrei per forza fare una scelta o l'altra ok in questo momento ti trovi a fare delle scelte abissalmente differenti ovviamente questo che cosa mi porta? a me personalmente porta al fatto per esempio di cercare altre fonti di finanziamento che mi permettono di continuare il festival allora il discorso per esempio rispetto alle sponsorizzazioni che si faceva stamattina il nostro festival dal primo anno ha deciso di non prendere soldi da sponsor così cioè nel senso andare col progetto dire ok io ti metto ti includo nella programmazione ti metto il tuo logo con questa grandezza questa grandezza costa tot questa grandezza costa tot e questa grandezza costa tot perché di questo si parla non sto dicendo ovviamente a me una cosa del genere non piaceva a me come a tutti all'UGT insomma gli altri componenti dello staff e quindi abbiamo iniziato a pensare già dal primo anno a coinvolgere delle aziende c'era proprio un'azienda locale che è un'azienda con cui noi collaboriamo dal primo anno quindi sono passati dieci anni e con loro abbiamo iniziato a dire ok perché insieme non pensiamo ad un progetto da inserire nel festival e nel giro di dieci anni questo è diventato un concorso teatrale un concorso teatrale che quell'azienda ha deciso di finanziare e che ovviamente se si continua questo rapporto c'è questo concorso teatrale nel momento in cui il rapporto finisce finisce anche quella progettualità allora anche pensare il festival a progetti cioè io non penso ad un progetto unico ma penso ad una serie di sezioni e ogni sezione la penso come se fosse una cosa a sé sia rispetto alle forme di finanziamento sia rispetto alla modalità di approccio al pubblico alla modalità di pubblicità eccetera ovviamente tutte che abbiano un filo conduttore normale dicevo rispetto alla questione del concorso noi con loro siamo andati a parlare appunto di una progettualità inizialmente loro hanno detto guardate per noi sarebbe importante avere una targa di riconoscimento rispetto alla cultura cioè per questa azienda era fondamentale che è un'azienda che non guadagna nel locale nel senso che loro producono plastica e la plastica la vendono all'estero però che cosa fa? lavora nel locale cioè all'azienda a Troia e dà effettivamente dal lavoro a tante persone di Troia ovviamente questo crea critiche moltissime perché ci sono licenziamenti perché ma come in ogni azienda e questa azienda locale vuole effettivamente essere essere presente nel tessuto sociale di Troia e avere una valenza e su questo si è pensato sempre di più che questa questa azienda potesse finanziare un concorso il concorso teatrale e qui entriamo in un altro in un altro ambito che noi stiamo portando avanti ormai lo stiamo portando avanti da quattro anni questa è la quarta edizione e di fatto questa è un'altra cosa molto complicata e complessa su cui noi ci stiamo interrogando spesso ci interroghiamo tuttora perché? perché rispetto alla questione artistica proprio molto spesso i concorsi nascono perché un festival non ha non ha la possibilità di pagare degli artisti allora dice ok io mi invento il concorso dico a una serie di artisti di venire partecipo gratuitamente e io mi sono fatto il festival e ovviamente questa è una cosa problematica perché io personalmente mi interrogo giornalmente su questa cosa perché non mi piace perché in fondo dico non va benissimo la prima cosa su cui noi abbiamo deciso di di non di non fare nulla è appunto non ci deve essere un'iscrizione a pagamento cioè chiunque può iscriversi al concorso e l'altra cosa importante è non mettere dei paletti molto forti in modo tale che l'artista che decide di partecipare a questo concorso è un artista che effettivamente ha bisogno di far vedere la sua la sua arte l'altra cosa fondamentale che noi cerchiamo di mantenere è che tutti gli artisti del concorso rimangano tutte le giornate del festival all'interno del festival perché è un modo o per conoscersi tra di loro e quindi creare altre cose o per conoscere noi o per iniziare nuove forme di collaborazione o per conoscere altri artisti che sono all'interno del festival ovviamente ovviamente il passo successivo che stiamo cercando di creare è che oltre alla vincita del concorso dello spettacolo vincitore dei teatri due in particolare che sono il teatro civico 14 di Caserta e la bottega degli apocrifi il teatro di Manfredonia tra i finalisti sceglieranno degli spettacoli che inseriranno nel cartellone quindi diciamo una sorta di piccola circuitazione diciamo l'altro passo che è il passo che noi vogliamo compiere che già volevamo fare quest'anno ma non ce l'abbiamo fatta è che comunque tutti gli spettacoli abbiano in concorso abbiano un piccolo rimborso cioè noi offriamo l'alloggio offriamo il vitto però ciao però non non offriamo il rimborso e questo è un problema nel senso ma questo è un problema che ci facciamo più noi vi dico la verità nel senso che poi alla fine sono venuti artisti da Trieste sono venuti artisti da Torino da Milano cioè anche da sono venuti artisti dalla Spagna per esempio quindi realmente però dico la verità questo è un discorso etico che io personalmente mi pongo per primo e che francamente è una cosa su cui bisognerebbe bisognerebbe lavorare allora io mi fermerei un attimo anche perché ho sete mi fermo un attimo posso poggiarlo qui purtroppo grazie a tutti Grazie. Grazie a tutti. Siamo comunque quasi tutti, tutti, le organizzazioni persone che mi trovano. Questo è stato un elemento importante, nel senso che molto spesso i festival nascono da persone del posto, però si avvalgono della direzione artistica di un'altra persona, che ovviamente dà punteggio, perché dà punteggio rispetto alla valenza di un festival, rispetto ai bandi. Le dinamiche che avvengono all'interno della squadra, del gruppo, dell'organizzazione, siete sempre d'accordo sulle cose da fare? No, in realtà mai. In questo momento il festival è fatto da tre associazioni. Io dico tre associazioni più una serie di partner. Le tre associazioni si dividono un po' l'organizzazione, nel senso che l'Unione Giovanile Troiana, che è l'associazione capofila, è quella che si occupa più dei rapporti con le istituzioni. Cioè, vengono stabilite i ruoli? Lo faccio così, tipo rockstar. Vengono stabiliti i ruoli? Beh, in realtà tutti sappiamo di tutto. Cioè, nel senso che, allora, tu che sei l'Unione Giovanile Troiana ti occupi del rapporto con le istituzioni. Io che faccio parte dei teatri 35 mi occupo della direzione artistica. L'altro act che si occupa, diciamo, di turismo si basa più sulla logistica e quindi sulla promozione turistica. E ovviamente ognuno lavora su quello che alla fine sa fare di più. Ciò detto, io mi trovo spessissimo a occuparmi di logistica. Cioè, io devo sapere che se c'è bisogno di spostare le transenne o i detti da una parte all'altra, io lo vado a fare. Cioè, non è... è un gruppo che durante il festival lavora e fa manovalanza come fa altro, insomma, deve poter fare tutto. Questo è un po' il discorso dell'indipendenza. Cioè, io da indipendente sono abituato, indipendente pure a livello lavorativo, teatrale, sono abituato a farmi da produttore, distributore, attore, regista, manovale, tecnico, distributore, eccetera, 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 eccetera. Pulire i bagni prima e dopo l'attività. Ovviamente questo è un vantaggio dell'indipendenza, cioè del lavorare come compagnia indipendente. Ti dà tanti vantaggi, ti dà il vantaggio di poter girare molto, di poter fare date tantissime, eccetera. Ovviamente ti dà degli svantaggi, perché pensare a centomila cose non è sempre facile. Tutte diverse, tra l'altro, coordinarle... Sì, 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 in realtà poi entri in un meccanismo e quindi ti riesce tutto molto più semplice. Inizialmente era complicato. Inizialmente non sapevamo neanche... Cioè, dovevo andare a pagare la CIA, io mi ricordo, il primo anno, e dicevo, la CIA, che cos'è questa forma... Ma no, questa organizzazione a delinquere, quasi. No, vabbè, si vorrebbero fare varie rivoluzioni su varie cose, cioè, non è il discorso... Non è un progetto rivoluzionario, no? Non è un progetto rivoluzionario, io non credo lo sia, sinceramente. Nel senso che di idee ce ne sono tantissime, e questa del festival non è un'idea geniale. È un po' come il discorso di quando si fa un film. Allora, di solito i film geniali hanno dei soggetti che sono semplicissimi. Però, nel modo in cui vengono fatti, nel modo in cui c'è la ripresa, nel modo in cui si struttura tutto, possono essere geniali. Allora, io credo, almeno quello che ho visto durante il festival, non è che su dieci anni di festival io ho visto solo cose belle. Io personalmente. Anzi, tantissime volte ho visto cose orribili, che vanno dall'organizzazione, ma anche spettacoli, che effettivamente, dal mio punto di vista, potevano essere bellissimi in un luogo, fatti a Troia, in quell'ambiente, in quel contesto, sono risultati tremendi. Perché così? E invece, al contrario, ho visto spettacoli che a Troia hanno funzionato benissimo. Io faccio un esempio rispetto proprio al concorso. Quando arrivano le proposte al concorso, è sempre complicato valutarle. Perché tu le valuti tramite un video, le valuti tramite un progetto, per tante cose. E quasi sempre, gli spettacoli che noi, che li selezioniamo, come prima selezione, per Troia, di solito, o l'ultimo che selezioniamo, o quello lì che diciamo, ma questo secondo me non convince, vabbè, mettiamolo. Alla fine è quello che vince. Perché? Perché lì, in quel momento, crea un qualcosa. E di solito fa contenti quasi tutti. Ma è un pubblico che vota o c'è una giuria? No, no, c'è una giuria. C'è una giuria. In realtà noi il voto pubblico l'avremmo voluto inserire. Però è un po' complicato. Nel senso che, secondo me, per arrivare al voto pubblico, devi fare un discorso di preparazione di un gruppo di persone. Ma non preparazione di che tipo. Cioè, nel senso che loro devono leggersi i progetti. E soprattutto devono dover partecipare a tutti gli spettacoli. E questo è un po' un problema. Nel senso che lo spettatore può essere interessato, ma fino a un certo punto. Allora dice, sì, ma io oggi però non posso venire. Io non è che posso spostare lo spettacolo perché tu non puoi venire. Questo è un po' un problema. Per esempio, il Kilowatt Festival fa questo. Ed è un progetto eccezionale. Nel senso che loro organizzano un festival e fanno durante tutto l'anno un percorso con questi 20 visionari, li chiamano loro. Che è bellissimo anche il concetto di visionari. Ma loro fanno questo progetto che, secondo me, è favoloso. Poi, sempre il discorso di progetto. Poi dipende sempre effettivamente cosa funziona e cosa no. Però loro del Kilowatt fanno questa cosa ed è geniale. Però il Kilowatt si fa in Toscana. E qui si apre un altro mondo. Nel senso che la più grande criticità che io personalmente ho rispetto al festival non è il finanziamento. Vi assicuro che non è quello. Ma è la tempistica. Io vi faccio l'esempio di quest'anno. Perché, insomma, quest'anno è quello da venire. Noi in questo momento ci troviamo... Cioè, io in questo momento mi trovo che il festival inizierà fra due settimane, tre. E dal 6 al 9 agosto. Al 9 agosto. E mi trovo a lavorare con due bilanci. E questo non è possibile. Perché mi trovo a lavorare con due bilanci? Perché di fatto io ho avuto le elezioni comunali a fine maggio. Che non hanno cambiato niente. Nel senso che la giunta che c'era precedentemente appoggiava il festival. La giunta che è sopraggiunta appoggia il festival. Però io non lo potevo sapere. Cioè, l'ho saputo il 20 di giugno. E quello è già una fetta di organizzazione. Un partenere importante. I fondi regionali. Noi sono dieci anni che dalla regione Puglia abbiamo il finanziamento. Lo abbiamo sempre. Siamo entrati ormai nel bando... Nel, scusatemi, nell'albo regionale. Siamo stati uno dei primi festival a entrare nel bando regionale. Nell'albo regionale, scusatemi. Siamo l'unico festival teatrale nell'albo regionale della provincia di Foggia. Però io non so ancora se i fondi FESR e i fondi dell'albo regionale saranno approvati. Quasi sicuramente sì. Cioè, io lo so che poi alla fine, come è stato per tutti questi anni, anche quest'anno... perché la struttura è quella, i finanziamenti che mi daranno sono quelli, eccetera, eccetera. Loro scelgono di investire su questa cosa. Va bene tutto. Però io non posso fissare dei contratti con degli attori, dire a degli attori, ok, c'è questo, questo e quest'altro, se poi di fatto non ho la certezza di una cosa del genere. e ci troviamo a luglio. No, non è un problema italiano. Mi dispiace, non è un problema italiano. Pugliese sicuramente. Guarda, posso dirti una cosa? Tre mesi, tre mesi prima, io non sto parlando di tempi... Cioè, io, la cosa che dicevo quest'anno, io sono un po' stanco rispetto a questa cosa, e la cosa che dicevo quest'anno era che io a maggio, fine maggio, avevo una progettazione praticamente conclusa di festival. L'avevo conclusa. Però non avevo nient'altro. Avevo l'idea che sicuramente... Cioè, perché poi non è che sto parlando di cifre, sto parlando di circa 25. il mio festival va dai 25 ai 35.000 euro. Questo è il budget. Quindi non è che stiamo parlando di cifre assurde. Quindi, ma, 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 di tre giorni che ci sono? In realtà stiamo parlando... C'è un pensato di quei giorni? È... Circa una sessantina. Di cui una parte ha un'altra persona, che è più grande, un'altra scena? C'è due chi... Allora, sei sono i partecipanti al concorso, al massimo, non più di sei. Poi ci sono tutta una serie di spettacoli che vanno più sulla strada. E per spettacoli che vanno in strada, io mi riferisco non solo all'arte di strada, ma a spettacoli che hanno una struttura scenica che permette, appunto, di farlo in strada. Io sono molto attratto da questa forma di teatro. Io personalmente lavoro molto su una forma artistica del teatro che può essere portato in ogni luogo. Mi affascina molto l'idea che io possa fare spettacolo qui, in questo luogo, in questo momento, e lo stesso spettacolo io lo possa fare al Petruzzelli di Bari. Cioè, questa è un'idea che a me piace molto. Non è mia. Ovviamente io ricordo, anni fa, senti proprio Peter Brook che diceva che il teatro si fa con un tappeto. Io eliminerei anche il tappeto, di fatto. Però mi rendo conto che spesso non è facile. Per me questa tipologia di teatro è quella a cui io sto più attento, mi piace di più. Ovviamente è quella che è anche più semplice da portare, perché non ha una struttura scenica pesante. Perché noi spendiamo per un service dai 5 agli 8 mila euro. Quindi cifre anche importanti rispetto a tutto il festival. Senti, ma oggi mi può portare un'altra curiosità che è diventata così, diciamo, questo festival che voi fanno. Avete richieste da artisti che vogliono venire a promogli di amore, di amore attraverso... Ma in questa è tantissimo. Cioè, perché ci siete amore o c'è un amore? No, allora questo è un altro aspetto che noi stiamo portando avanti dall'inizio. Noi non facciamo scambi. Abbiamo proprio per scelta deciso di non fare scambi. Gli scambi sono la cosa più economica. Ovviamente. Nel senso che, cioè, tu chiami il teatro, però il teatro italiano si fonda sugli scambi. ed è per questo che è chiuso. Cioè, è sempre il discorso rispetto... Allora, io personalmente sono convinto ancora del fatto di dire ok, se io chiamo quell'artista e perché io voglio vedere quell'artista? Ovviamente pagandolo. Cioè, perché il cachet lo paghi. E' ovvio che i cachet non sono altissimi. Il massimo che siamo riusciti a pagare come cachet è stato di 3.500 euro, mi ricordo. Però, insomma, stiamo parlando di... insomma, di cose anche più complesse. Ovviamente, per esempio, l'anno scorso l'artista di punta era Maria Angela Gualtieri. Ovviamente non sono cifre enormi. È normale che si fa un lavoro anche diverso di coinvolgimento. Guarda, se non ricordo male, 1.800-2.000 euro. Che comunque sono cifre importanti per noi. Non è una cifretta... Però diciamo che... Poi ovviamente si creano tanti altri rapporti. Cioè, noi abbiamo degli artisti che da noi vengono volentieri. perché sono venuti la prima volta e ci ritornano volentieri. Faccio l'esempio dei Babilonia Teatri. Babilonia Teatri è una di quelle compagnie che noi amiamo artisticamente e che loro spessissimo vengono e quando vengono da noi è ovvio che cercano di venirci incontro mettendo delle date vicine. Poi non abbiamo mai fatto il discorso che è un altro discorso che io non apprezzo di dire no, se tu vai al festival che sta a 20 km da me non devi venire. Io voglio l'esclusiva. No, in realtà questo a livello mediatico ti fa molto gioco. È ovvio. Perché dici ok, la prima volta te lo fa il gioco. Dall'altro punto di vista devi però pagarlo. Cioè, se vuoi lo devi pagare. questo è un aspetto che noi abbiamo sempre cercato di evitare. L'altra carenza per esempio che noi abbiamo è il coinvolgimento della stampa per esempio. Nel senso che noi abbiamo non abbiamo mai investito tantissimo nell'ufficio stampa. L'ufficio stampa dell'anno scorso e due anni fa se ne è occupato un ragazzo che effettivamente ci sapeva fare come ufficio stampa. Sempre parte delle associazioni di acti in quel caso. Però ovviamente non avere un ufficio stampa adatto cioè proprio teatrale come questo ovviamente gioca molto al nostro sfavore. L'altra cosa è non avere la possibilità di cioè anche lì è una scelta cioè io preferisco avere dei soldi per ospitare l'artista in maniera dignitosa oppure per ospitare il pubblico anziché avere i soldi per ospitare il giornalista. Questa è una scelta che ovviamente ha una ricaduta cioè è più semplice da un lato ospitare il giornalista importante che viene ti fa l'articolo e tu hai una risonanza però non è l'obiettivo principale del nostro festival è ovvio che è una cosa uno scotto notevole per noi perché io mi rendo conto il festival a livello di underground teatrale il festival teatro è abbastanza conosciuto nel senso che io ho proposte ormai anche dall'estero quindi non ho problemi rispetto a questo però se io ti devo dire che ho una risonanza nei media no non ce l'ho ma non ce l'ho perché non non faccio nulla non 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 pago per avercela perché si tratta di pagare ma no mi piacerebbe come no però lì fai cioè fai delle scelte noi pure rispetto per esempio all'idea di all'idea grafiche o l'idea di comunicazione su quello noi ci divertiamo sempre molto devo dire la verità nel senso che di fatto abbiamo lanciato qualche anno fa una grafica molto interessante che era fatto da un grafico che tra virgolette è anche lui di Troia cioè noi stiamo cercando sempre di attingere molto da da Troia e lui aveva fatto una grafica vincente sempre basandosi sul discorso tutta un'altra Troia sempre sul discorso Troia lui aveva fatto la grafica del maiale e questa insomma ha girato tanto a questo noi abbiamo legato il discorso del concorso perché il concorso si chiamava la scrofa d'oro quindi c'è una serie di cose divertenti poi alla fine su questo noi abbiamo anche un po' osato non è stato ben voluto subito dalla comunità troiana che però quando poi ha capito che non era una cosa offensiva ma anzi era proprio un dire cioè io quando andavo quando sto a Napoli a me mi conoscono come Francesco di Troia non mi conoscono come Francesco De Santis perché? perché è ovvio che la cosa più semplice come ti posso ricordare a Troia sul cellulare io scrivo Troia cioè è facile è una cosa identitaria che noi abbiamo cercato all'inizio cioè Troia per noi non era fare un festival che può essere trasportato ovunque io mi rendo anche conto che questa modalità non è che può essere presa e portata altrove e funziona assolutamente cioè io non credo che questa modalità sia una modalità vincente io credo che il festival debba essere pensato per il luogo perché altrimenti non ha non ha identità cioè non ce l'ha proprio che poi il discorso di cioè queste sono tutte cose che noi abbiamo imparato non sono discorsi nostri Sant'Arcangelo è nato da quello è nato da una forte identità interna cioè da artisti che lì hanno creato in base a quel posto hanno creato quello che avessi 20 anni tu hai parlato che ogni anno ma che parti in modo vedere del festival poi arriva di dosso mi date di vedere qualcosa è rapportato lo stesso discorso nell'alte dei 10 anni del festival è come c'è è andata standando con queste aspette di cantasse o no hanno operato capito che cosa è anche non dico se magari qualcosa ha durato quello che era evidenza del festival però magari hai dovuto rinunciare dei compromessi che adesso sono un po' sletti io alcune volte ho raggiunto dei compromessi e poi ti racconterò anche di questi compromessi e non mi sono piaciuti e io li ritengo ancora dei compromessi mi piace anche raccontarli perché infatti di fatto sì 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 ma infatti no 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 io parlo di scelte artistiche proprio esclusivamente allora ti dico prima di tutto è cambiato sì è cambiato in realtà quello di cui ti parlo oggi io non avevo questo pensiero il primo anno che ho creato il festival no cioè avevo una mezza idea di la cosa bella è che questo pensiero si è creato in questi dieci anni e ogni anno correggendo quella cosa o aggiungendo o levando una determinata cosa a livello artistico un anno c'è stato allora io ricordo un compromesso di un anno in cui dei finanziamenti erano legati a far venire un artista e tu sai dici vabbè mi arrivano questi finanziamenti da parte del posso dirlo eh non posso dirlo no non dico nome e cognome però posso dirlo mi arrivarono dei finanziamenti da parte del della provincia la provincia mi finanzò solo un anno rispetto al festival e però mi disse però perché non porti quest'artista guarda io rispetto a questa cosa non cioè non fu un obbligo attenzione cioè non è che mi dissero no io ti finanzio se porti quest'artista non fu così però me lo dissero ah sai tu dici vabbè sai che ci sta un artista all'interno di tutto il festival ma a me che mi cambia quell'artista creò grossissimi problemi da un lato proprio umani cioè li tico con tutti in primo luogo con me e soprattutto non piacque non piacque a livello artistico non piacque creò una bufera quell'anno tutto il festival si concentrò quasi in quel quell'atto che doveva essere per noi una cosa diceva vabbè tanto uno in più uno in meno quell'atto è stato un atto da parte nostra sbagliato ma non perché ci venne imposto una cosa attenzione lì fummo noi a sbagliare perché noi ci autoimponemmo una cosa cioè non avemmo neanche il coraggio di dire no senti tu ci vuoi dare il finanziamento ce lo dai però noi siamo liberi e probabilmente ce l'avrebbero dato comunque non è che era legato a quello assolutamente questa è una cosa tra virgolette molto bella di questo festival noi abbiamo una libertà decisionale data anche dalle persone dalle istituzioni la regione noi la regione facciamo un preventivo di spettacoli e di costo facciamo un consultivo che è diverso dal preventivo di spettacoli perché così io mi rendo conto anche i fondi FESR per esempio che sono dei fondi interessanti che ti danno una libertà notevole però ovviamente io metto a fare un preventivo dei fondi FESR e proprio dei fondi FESR per esempio si parla in questo momento io probabilmente saprò i risultati il 15 d'agosto che è finito il festival però è così allora io faccio un preventivo che è in un modo per i fondi FESR chiamando degli artisti questo a gennaio ritornando al discorso iniziale io faccio un preventivo ed un discorso anche logico che mi porta a dire ok a ottobre presento questo bando e la mia idea di festival è questa so che l'idea di festival non sarà mai quella che poi avverrà però cambierà di poco avere invece il sapere dei finanziamenti cioè io adesso so che potrò avere facendo proprio numeri 17.000 euro o 25.000 euro cambia vi assicuro che cambia e lavorare con due bilanci fino adesso a due settimane dall'inizio del festival è qualcosa cioè non è facile è una di quelle cose che veramente ti lascia ogni giorno dire adesso come faccio ma perché perché poi alla fine ti trovi a parlare con delle persone dei lavoratori no sono chiaro sono chiaro cioè degli artisti li fermo e gli dico ok voi ci sarete altri artisti gli dico chiaramente dico io adesso non lo so e non posso dirti mi interessa inserirvi però fino a quando non so questa risposta non vi posso inserire cioè su questo guarda per me è fondamentale avere la chiarezza con gli artisti perché io stesso sono un artista cioè io vado nei festival e quando mi prendono in giro nei festival ti assicuro che non è bello poi c'è tutto un discorso che noi abbiamo fatto in questi anni per esempio rispetto alle istituzioni locali di far capire l'importanza di accogliere determinate persone perché allora quando si organizza un festival ricordo i primi anni noi parlavamo con l'assessore con il sindaco e che ovviamente non solo in questo mondo cioè in realtà nessuno c'era in quel mondo e quindi noi iniziamo a dire allora noi avremmo bisogno degli alloggi avremmo bisogno di questo e loro facevano vabbè diceva vabbè ma loro possono dormire nella palestra assolata e diceva no in realtà no non possono diceva vabbè ma alla fine sono due giorni diceva sì ma loro vengono a lavorare sì vabbè ma due giorni poi comunque se ne vanno a casa loro allora diceva sì ma loro non è che vengono a lavorare qui poi probabilmente vanno altri due giorni in un altro festival e se vivono sempre in questa modalità salve prego prego se vengono cioè se vengono trattati in questo modo è un problema cioè io se devo andare da qui qui e qui e devo dormire sempre in un saccappello per terra io ho problemi di salute cioè ho problemi alla schiena ho problemi a svegliarmi e poi a lavorare a fare un'azione far capire ma in realtà guarda ti dico la verità non è non è proprio cioè è che non 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 lo conoscevano dico non lo conoscevano perché poi adesso non c'è più dopo dieci anni io ti dico che non cioè non c'è più un discorso del genere cioè non lo fanno più però inizialmente era così che sembrava la cosa più scontata del mondo diceva vabbè ma alla fine si vengono a divertire vabbè ma la mangiata ci si vengono a divertire ma che significa perché perché ovviamente l'aspetto spettacolare è sempre inteso in questa maniera e qui anche il discorso strada o teatro chi va a teatro viene trattato in un determinato modo chi va in strada allora far cambiare questa cosa secondo me non è appunto solo un discorso economico cioè non è io faccio pagare il biglietto è proprio un discorso di dire ok iniziamo a pensare che questo luogo è un luogo dove un artista deve stare bene perché se l'artista sta bene produce arte se produce arte siamo bene tutti cioè è la scoperta dell'acqua calda in fondo cioè niente di di che va bene io se avete altre domande me le fate man mano però proverei a fare questa 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 follia diciamo di di progettazione del del festival allora il festival io per quale motivo vorrei fare questa cosa perché finisco di dire questa cosa che per me era importante trovandomi a ragionare quest'anno sull'idea di movimento io avevo fatto una struttura che di cui era abbastanza soddisfatto anche questa struttura a maggio è praticamente saltata quindi io mi ritrovo con un concorso sul movimento che ovviamente ha un fulcro centrale e una serie di di spettacoli che hanno una valenza anche importante mi piacciono gli spettacoli che ci saranno probabilmente che ci saranno quest'anno al festival però io in questo momento cioè quest'anno come non mai ho sofferto di una cosa di una di una logica artistica cioè io come direzione artistica dichiaro in questo momento che quest'anno dei ritardi hanno fatto sì che il mio pensiero artistico venisse trasformato in qualcos'altro e questo non mi piace cioè che è successo no è successo che se io voglio fare uno spettacolo sul movimento faccio l'esempio e poi alla fine mi trovo a fare un monologo che parla di staticità per me c'è un problema per me c'è un grossissimo problema ed è il problema centrale per cui io quest'anno ho dichiarato che nel momento in cui l'anno prossimo si verifica la stessa cosa io sono pronto a non farlo più il festival perché è una questione di no ma in realtà secondo me non ci sarà questo rischio secondo il mio parere di non farlo di non farlo dall'altro punto di vista però se io lo devo fare in queste condizioni io preferisco non farlo perché diventa un io divento solamente un tramite per una spettacolarizzazione pur di alta qualità però diventa un tramite ma perché una compagnia che tu fermi a maggio la devi contrattualizzare il giorno dopo non gli puoi dire no aspetta un altro po' sempre per il discorso di onestà io ovviamente nel momento in cui una compagnia che io avevo chiamato avevo corteggiato da due anni da due anni e doveva venire ovviamente ha trovato altro ma io non non la contesto assolutamente ma è normale cioè ok adesso devo pensare ad io adesso che cosa ho dovuto pensare ho dovuto pensare ho dovuto affrontare il tutto con un discorso più legato all'amicizia a chiamare persone a meccare con cui o che comunque so che hanno una stima rispetto al festival e chiedere dire guarda vieni perché altrimenti io rimango col buco ma quindi le scelte vengono dettate le volte da te personalmente nel senso io scelgo queste compagnie in realtà arrivano proposte cioè arrivano proposte le scelgo io non è arrivano tantissime proposte ma infatti io stesso di Babilonia Teatri mi arriva una proposta io le andrei a vedere a Napoli questo si parla del 2008 mi sembra una cosa del genere e mi piacquero e poi da allora iniziarono a o la vado a cercare io perché mi interessa particolarmente quel lavoro o mi cercano loro a me piace cioè è dato da tante cose è ovvio che io ho un'idea logica rispetto a tutto il percorso del del festival cioè l'anno scorso l'idea centrale del festival era legato alla conoscenza due anni fa era legato all'etica tre anni fa all'estetica cioè comunque io ho sempre un discorso che voglio affrontare in maniera diversa da quello che affronterei io personalmente perché mi interessa vedere gli altri come affrontano quell'idea l'anno prossimo io realmente quest'anno lo vedo e di questo io ne ho parlato per esempio anche con le istituzioni locali cioè io quest'anno ho parlato chiaramente del fatto che per me il festival di quest'anno non è una conclusione di un anno ma è un inizio cioè io vedo il festival di quest'anno e in questo momento lo vedo anche in maniera molto ottimista come un punto di partenza che si concluderà l'anno prossimo che si concluderà col festival dell'anno prossimo e il festival dell'anno prossimo avrà come centro e su cui noi lavoreremo adesso il potere per me è importante in questo momento storico in questo momento mio personale affrontare questo tema il tema del potere in tutte le forme perché poi come dicevo io cerco sempre di dire ok per me l'idea di movimento è molto precisa però è la mia che io posso affrontarmi nei miei spettacoli posso affrontarmi personalmente a me interessa invece chiamare degli artisti e vedere come loro affrontano questa stessa idea e ovviamente vado a chiamare o artisti che hanno già affrontato questa tematica oppure appunto giovani compagnie giovani vecchi anziani giovani che vogliono venire in un concorso e che affrontano in maniera diversa questa idea del movimento e questo vedi quindi che è una rivoluzione perché i bracci una causa si è un metadossio cioè forse è troppo pesante dire si il messaggio si ma l'arte l'arte in fondo deve essere messaggio cioè io mi rendo anche conto che io ho sempre pensato che ci fosse una divisione tra espressione e comunicazione cioè per me l'espressione è l'arte l'espressione questo però è un mio modo di intendere la cosa ovviamente strettamente personale l'espressione secondo me è quel qualcosa che io ho bisogno di dire la dico la dico nel linguaggio che voglio con la tempistica che voglio nella modalità che voglio e nel luogo che voglio lo esprimo questo può essere percepito può essere capito non capito preso non preso ognuno ne fa quello che ne vuole per me questo è un po' l'arte la comunicazione è diverso perché la comunicazione secondo me fa sì che io prima di iniziare a comunicare cerco di capire il linguaggio migliore per cui l'altra persona mi capisca cerco di di entrare in un determinato modo in modo che quell'altra persona mi capisca è ovvio che in un festival ci sono tutte e due le cose cioè c'è l'espressione da un lato e c'è molto la comunicazione perché se io non comunico non posso far venire le persone non posso creare un circuito e non posso creare un luogo dove degli artisti possano esprimersi quindi sono sempre molto collegate incatenate come cose certo allora abbiamo questo festival dove c'è una sezione concorsi e quindi per quella sezione concorsi c'è il tema non penso che tutti e 60 dei spettacoli poi hanno lo stesso tema in realtà allora ti dico un po' come è strutturato ci sono questa sezione che è la sezione del concorso poi c'è una sezione che io chiamo la rassegna che è la sezione di spettacoli ad invito e che hanno anche una struttura un po' più complessa e che sono di teatro di ricerca e queste ovviamente di solito vengono chiamate in base a questo tema quindi come ti dicevo quella compagnia che affronta quel tema in quel momento io la chiamo perché mi interessa perché mi piace perché la voglio far vedere ad invito poi c'è la sezione artisti di strada a Baskers che di fatto vengono scelti anche in base a questo per gli spettacoli insomma in cui che c'entrano altri vengono scelti perché sono bravi perché non danno nessun messaggio però sono bravi sono Baskers sono cioè è una sezione un po' più libera come cosa senza pretese e poi di solito noi facciamo i laboratori residenze e anche sulle residenze noi le persone che vengono a fare residenze quindi iniziano un percorso a Troia anche su quello noi cerchiamo comunque le compagnie che vengono ad esprimere qualcosa su quel tema cioè il tema centrale diciamo dovrebbe essere visto in un po' in tutto è ovvio che come ti dicevo il tema è molto ampio cioè parlare di etica o parlare di estetica di fatto può essere tutto cioè parlavo prima con Marco dicevo ok tutti quanti devono dare una motivazione del perché il loro spettacolo centra con 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 quest'idea allora io ti dico concretamente che se tu prendi uno spettacolo teatrale e mi lo propone ad un festival qualsiasi e questo festival ha anche dei paletti più stretti qualunque spettacolo teatrale c'entra anche con quel tema perché così cioè perché ogni spettacolo teatrale in fondo ha talmente tanti temi all'interno che è solo dire ok io parlo anche di estetica probabilmente un unico spettacolo parla di estetica etica teoretica potere eccetera eccetera a me interessa che che tu capisca anche e che mi comunichi il tuo spettacolo perché parla di di etica per esempio o risposto forse no di come funziona è una cosa bella forse non parlano tutti di movimento però in parte il movimento c'è io io non ho visto quasi nessuno spettacolo in cui proprio non ci sia movimento cioè nel senso che io il movimento glielo farò entrare pure in questi spettacoli che che vedrete quest'anno al festival il concetto di movimento cioè non è difficile questo è ovvio che è diverso perché così io ce lo devo far entrare invece diversamente se io posso progettare un tempo la mia progettazione è quella che ho in mente cioè è su questo che io soffro le tempistiche istituzionali in questo caso ovviamente non solo istituzionali attenzione perché la critica mi faccio io a me stesso e dire ok ma chi ti ha detto di prendere i soldi della regione non vuoi questi tempi non li prendere i soldi regionali fai un festival senza perché forse l'anno prossimo decideremo di fare a meno di determinati finanziamenti perché mi chiedevo posso che i ritardi ci sono sempre però per questo alla fine ti devi porre anche questa questa idea questo ragionamento ok se questo è fondamentale è fondamentale più il tempo o la quantità economica in questo momento secondo me è più importante il tempo cioè il tempo ha un valore decisamente maggiore rispetto assolutamente assolutamente ma infatti io non dico che quella è la cosa giusta che è quell'altra cosa giusta mi raccomando che la cosa bella sarebbe che io già ho una fetta di finanziamento e la so sei mesi prima tre mesi prima guarda non sto parlando di tempi incredibili sicuramente non la posso non la posso sapere dopo che ho fatto il festival cioè questo è un è un discorso ma non per altro perché io adesso non non lo posso considerare e quindi comunque è come se non la vissi poi se ce l'ho che faccio boh faccio un altro piccolo festival cioè questo guarda io non credo che ci sia di essere l'unico ad avere questi questi problemi tempistica purtroppo però questi influenzano tantissimo l'aspetto artistico cioè forse che arriva per coprire ma il discorso dell'emergenza cioè soprattutto se io posso chiamare qualche compagnia qualche artista che lavora parecchio quindi ha già la scuola la visione non sa se non si prima non si lo potrei mai chiamare ma si è tirato fuori da tante cose non è che avesse la città necessaria io dico noi potremmo chiamare degli artisti da questo e noi possiamo chiamare perché di fatto non abbiamo questa progettualità a monte quindi io in questo momento la sto soffrendo molto ovviamente rispetto a quello che andremo a fare adesso non capisco no adesso vediamo come lo risolviamo cioè in realtà non lo so cioè vediamo questo è uno dei problemi che è da risolvere secondo me poi ci sarebbe già un problema interno in quel senso che questo lo dico io adesso so già che se c'era un'altra persona che è il coordinatore del progetto mi guardava storta sicuramente non c'è infatti quindi no non penso no no forse sì forse sì no no in realtà è un grosso problema ti muovi ti muovi con con altre fonti ti muovi con un finanziamento minore cioè il discorso che faccio io adesso è io in questo momento a due settimane dal festival io non mi sto muovendo con i finanziamenti la realtà io la cosa che il discorso che faccio è ok io mi voglio ritrovare l'anno prossimo ad avere lo stesso pensiero cioè io devo sapere che ho 15.000 euro però non lo devo sapere adesso lo devo sapere a dicembre poi effettivamente arrivano i finanziamenti regionali è un di più però la mia struttura del festival io non mi muovo su quello perché non mi posso muovere su quello cioè io poi voglio anche capire perché io su questa cosa mi interrogo e dico ma ma gli altri come fanno e ma questo non lo so lo posso immaginare ma non lo so no questo lo posso solo immaginare ma non lo so e questo là è una questione più secondo me più legata al cristianesimo cioè c'è qualcosa di sì di sa cioè in realtà chi sa è perché ha dei santi in paradiso evidentemente però io non lo so vorrei tanto saperlo però non lo so di fatto ammiro anche chi fa questo però vorrei capirlo probabilmente loro stessi di altre situazioni sanno già che se non avranno questi finanziamenti ne avranno centomila altri quindi si muovono come sto muovendo io adesso probabilmente si muovono anche bleffando per modo di dire io in questo momento non bleffo nel senso che so per certo che dal 6 al 9 farò il festival so per certo che ci saranno determinati spettacoli so anche perfettamente il calendario però di fatto non lo posso neanche dire perché so una parte di calendario certo e l'altra parte è in forse è di questo che stiamo parlando mi vorrei trovare l'anno prossimo a dire ok io so già che posso fare questa parte 15.000 euro faccio l'esempio e con questo io riesco a fare tutto quello che arriva in più sarà una progettazione diversa cioè allora a quel punto si può pensare per esempio che quella quella lì si sfrutta per una una forma di residenza e di produzione cosa molto interessante cioè effettivamente di quei 10.000 euro faccio l'esempio che arrivano dalla regione quando arrivano sono tutti per la residenza e quindi io chiamo quell'artista e dico guarda cioè questa due settimane tre settimane di di residenza a Troia 10.000 euro lavoriamo al tema cioè potrebbe essere questo per esempio e potrebbe essere interessante ovviamente io ne parlo già prima poi vediamo vogliamo iniziare io non ho strumenti di nessun tipo nel senso che in realtà volevo farvi vedere dei video che sono video che noi abbiamo fatto in uno dei laboratori a Troia i video erano un po' un po' questi cioè cercare il titolo è video frammenti cercare di era tutto sul 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 vedere da parte dei partecipanti Troia vedere il festival e prendere piccolissimi frammenti appunto con una musica che descrivesse il il festival che descrivesse con una sensazione più che con una un qualcosa di descrittivo di puramente descrittivo noi abbiamo fatti tantissimi ovviamente durano 20 30 secondi e l'utilizzo era l'utilizzo di qualsiasi cosa dal dal cellulare alla fotocamera erano erano cose rubate da da ragazzi il laboratorio è stato fatto da ragazzi dai 14 ai 25 30 anni quindi è anche abbastanza variegato e niente vorrei far vedere ma un computer c'è qui adesso chiediamo se si